sai e e in questi momenti che io sento la mancanza di una società seria forte società una società attiva che risponde a tutti questi personaggi che ci attaccano quando loro sono stati i primi a a dividersi torte enunziali per anni e anni e anni perché loro purtroppo ancora non si non si capacitano del fatto che non esiste più Berlusconi e non esiste più Agnelli ma sono divisi di tutto di più eh di cosa vogliamo ragionare io non sto qui a ricordarti fallo su i fallo di pianici già munito sul Rafinha il rigore sul Ronaldo di Iuliano io non ti voglio ricordare il pugile gatto gatto panceri vostro pugile prende a cazzotti tutti e nessuno fa fitta di vedere nulla immagini al bar ritagliate del ginocchio di l'abbio io non voglio parlare di questo io non voglio parlare di questo io voglio solamente leggere un trafiletto Calciopoli il consiglio di stato conferma la rinuncia della Juventus al ricorso sulla richiesta danni da quattrocento quarantatré milioni il club pagherà le spese legali alla FIGC e all'Inter cinque milioni a favore di ciascuna quindi di cosa stai ragionando anzi guarda c'ho un mio amico si deve laureale me lo dai il numero della professoressa di Suarez per piacere perché vuole fare un paio di esami ma di cosa ragioni te te dovresti stare puto te dovresti essere radiato da anni te dovresti essere radiato da anni ma di cosa stai ragionando me lo dai il cellulare della professoressa di Suarez mi piacere c'è un mio amico vuole prendere la laurea ma di cosa ragioni il presidente è scomparso parlo del l'iter guarda io non me ne frega un cavolo presidente è scomparso Zanetti vicepresidente non parla mai ma allora però a questo punto io voglio tirare fuori il signor Marotta ma Marotta dove cazzo è dov'è Marotta perché non parli mai Marotta perché alla Juventus per un fallo laterale non dato andavi davanti ai minofoni e qui non parli mai perché non parli Marotta l'iter ha bisogno di te devi parlare ricordiamoci una cosa ragazzi che la comunicazione è fondamentale noi facciamo il triplete anche grazie a Mourinho che gestiva cose di questo tipo eh attenzione e il triplete non l'hai fatto solo sul campo se il triplete lo hai fatto anche a livello comunicativo attenzione mettendo a cuccia tante persone perché come diceva un certo Luciano Spalletti all'inter gli danno addosso tutti soprattutto in una situazione dove c'è un presidente scomparso siamo sommersi dai debiti e dove non parla nessuno questo è il momento più importante della storia dell'inter per quello che riguarda la sua forza perché l'inter purtroppo è debole ormai è una società debole a livello finanziario viene eh sistematicamente attaccata da tutti e nessuno parla non aspettano altro che darci addosso ma non parla nessuno ci sono ritirati tutti in un silenzio religioso Marotta devi parlare non puoi stare zitto per sempre devi parlare devi parlare Marotta devi aprire la bocca ti devi far sentire ti fallo su Arnatovic voglio parlare di questo fallo su Arnatovic un attaccante lì cosa deve fare attento che poi lo puoi annullare sicuramente non lo puoi annullare non voglio entrare nello specifico delle decisioni arbitrali se non su una cosa un attaccante a parte se te guardi Arnatovic sembra uno delle vecchie glorie che ha smesso da dieci anni se te lo vedi in campo un attaccante lì deve fare due cose può scegliere di fare due cose ma lo fa un attaccante di prima categoria c'è un mio amico di prima categoria lo vado spesso a vedere quando posso e quando gli arriva la palla lui fa due cose che ti insegnano dai pulcini o la proteggi o la scarichi di prima o la proteggi o la scarichi Arnatovic non fa nessuna delle due cose prendiamo la ripartenza tra l'altro può fare anche una terza cosa Arnatovic per non prendere la ripartenza deve fare fallo non fa nessuna di queste tre cose e questa scelta di aver investito 20 milioni complessivi operazioni su Arnatovic ragazzi mi dispiace ma ora la dovete spiegare perché io quando l'ho credito a questa estate mi piovevano i fischi c'era gli voleva Arnatovic titolare accanto all'Otaro Martínez attenzione quindi non non difende la palla prendi la ripartenza e come spesso succede perché te guarda l'azione no di quando Arnatovic perde la palla esce bastoni con la palla Mkhitaryan e Di Marco si fiondano negli spazi seguimi appena esce con la palla bastoni sono queste le azioni l'assie dell'ite si fiondano tutti dentro Arnatovic perde la palla e si è 5 contro 4 perché prendi la ripartenza e hai preso gol contro il Bologna questo gol hai preso decine di gol in questa maniera in due in tre anni e continuiamo a prenderli quindi a parte quello a parte quello a parte quello su bastoni per me puoi dare anche fallo però te annulli i gol perché c'è fallo comunque su Arnatovic perché quello è fallo e annulli quel gol lì e poi mi dovete spiegare dov'è il rigore del Verona a parte lì se se Darmian si buttano chi dà mai rigore ma Darmian è troppo onesto ma se Darmian si butta lì il rigore non lo dà mai ma te mi devi spiegare dov'è questo rigore del Bologna e soprattutto mi devi spiegare dov'è la cattiva fede di dare un rigore al centesimo cioè noi siamo in cattiva fede e ci fischiano contro un rigore a mio avviso inesistente al centesimo addirittura chiamano in vale se no avrebbero fatto finta di nulla avrebbero fatto ma hanno fatto con il pugile della Juve no che non hanno visto nulla mentre noi ci danno rigore contro il centesimo ma di cosa stai ragionando voglio capire io di cosa ragioni ma poi l'arbitro non era l'alibi dei perdenti e quindi ora voi che siete voi siete dei perdenti allora voi siete dei perdenti perché il Niter ad oggi ha dimostrato di essere la scuola più forte in campionato quindi voi vi lamentate degli arbitri Milan Juve siete voi i perdenti allora a questo punto l'avete sempre detto anche voi ma voi dovete aprire una cosa come ho detto all'inizio del video è finita l'era Berlusconi Agnelli anche se c'è il centenario di Agnelli attenzione perché a quelli che piangono la maglia bianconera non mi sembra che ve le stiano fischiando tutte contro quest'anno e non mi sembra proprio avete un pugile gioco a calcio ma di cosa ragioni ma di cosa stai ragionando ciao Vinter